Ciao a tutti, mamma e papà, bimbi, ciao ciao! Oggi Dada Cinzia vi racconta una storia di Spotti che in queste giornate che siamo in casa ci può dare una bella idea. Questo libro si intitola Spotti fa la torta, è di Eric Hill, Fabri Editori. Giovedì è il compleanno di papà, dice mamma Spotti. Facciamo una torta mamma! Dobbiamo fare la spesa prima, dice la mamma di Spotti. Bene, io guardo nella dispensa cosa c'è. Oh, e trova un topolino. Mi compri il formaggio, dice il topolino, quando vai a fare la spesa. E così mamma e Spotti vanno a fare la spesa. Spotti, dove sei? Ah, è qua Spotti. Prendi il cioccolato, dice la mamma. Sì, papà adora la torta al cioccolato. guardate Spotti quante tavolette di cioccolato ha preso. Adesso, Spotti, prepariamo la torta. Sono già ritornati a casa. La mamma si è messa al grembiure e Spotti dov'è? Ah, è già al lavoro. Noi abbiamo già cominciato, dice Spotti. In una tattona grande ha messo le uova, la farina e il topolino la sta inzando. Spotti, fermati, dove sei? Ah, Spotti è dietro a una nuvola di cioccolato. Sta mescolando forte, forte. Il topolino sempre che lo aiuta. Adesso, dice la mamma, è ora di metterla in forno. E così mettono la torta nel forno. E intanto mamma di Spotti dice, Spotti, è ora di riordinare. Dobbiamo lavare tutto quanto, i tegamini, la caraffa e dobbiamo pulire il tavolo. Sì, lo sto già facendo, dice la Spotti. Posso aiutarti mamma a decorare la torta? Chiede Spotti. Oh, intanto la mamma di Spotti sta guardando dentro il forno se la torta si sta cucinando. È pronta! La cittiamo con la glassa, dice la mamma di Spotti. Guardate Spotti cosa sta facendo. Ha trovato un libro che gli spiega come decorare la torta. Ecco, una torta bellissima di cioccolato. E Spotti sta facendo tante strisce di zucchero colorato. Quanto mi diverto, dice Spotti. Sarà una bella sorpresa per papà Spotti, dice la mamma. Guardate la torta. La mamma sta mettendo le candeline. E Spotti sta scrivendo un bellissimo biglietto per il suo papà. Ecco che è arrivato il papà di Spotti. Buon compleanno, Senna. Buon compleanno. E Spotti porta la sua torta meravigliosa e super decorata. E qua in mezzo ai pacchi c'è anche il topolino che fa gli auguri al papà di Spotti. Hai fatto tu la torta, Spotti, dice papà. È bellissima. Grazie, dice il papà. Grazie a tutti. Sono molto contento. Ciao bimbi. Ciao a tutti.